Musica 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 Resumo? Chi è? Maestro? Chi è? Eccomi Salve Buonasera Buonasera Eccomi qua Perchè? Ho visto il cartello Ah Ecco Vabbè ma sei pari meccanico? Io nasco meccanico Ma si guadagna? Già a parlare di guadagno Prima devo capire cosa sei capace di fare Diciamo che inizialmente puoi prendere sugli 800 euro E avanti puoi guadagnare anche 1200 euro Ah E allora vengo a lavorare più avanti Ci sentiamo Chiamo io o chiamerai? Più avanti Più avanti 1200 Ti mando io più avanti Capita? Grazie.